Ragazzi sono senza parole, sono schifato, io in questo video sarò volgare, quindi non mi spaventate Sarò incazzato nero, userò tante brutte parole, ma perché uno se ne meritano, due non c'ho voglia di mettere i bip Ed erano veramente, si meritano tutte le parole che dirò Perché è uno schifo quello che abbiamo visto Indigni, indecenti, uno schifo mai visto ragazzi Una vergogna, una vergogna essere italiano Quando indossi una maglia azzurra non puoi giocare in questa maniera Veramente uno schifo Cioè ragazzi ma di che parliamo? Cioè io non lo so ragazzi Non mi interessa nemmeno in questo video di percorrere i minuti dei gol, non me ne frega niente Perché tanto abbiamo perso, ha segnato Freuler prima, ha segnato Vargas dopo Ma non me ne frega niente, me ne frega dell'approccio dell'Italia Che non ha giocato, non è scesa in campo Uno schifo ragazzi Cioè una Svizzera che probabilmente uscirà già alla prossima fase Ai quarti di finale sarà uscita la Svizzera ragazzi Perché le occasioni più pericolose dell'Italia praticamente è stato l'autopalo della Svizzera Cioè a momenti quelli si segnavano da soli ragazzi Perché noi non siamo stati capaci di fare un tiro in porta Cioè uno schifo, una squadra abberrante, una squadra oscena Che veramente non si salva nessuno Si salva il solito Donnarumma che fa una parata senza senso su Embolo Si salva il solito Bastogna Poi basta Cioè colpa di tutti ragazzi Colpa di Spalletti che schiera ancora di Lorenzo Ostinandosi Lorenzo deve cambiare sport Parliamoci chiaramente Mancini Ha cercato anche di fare qualcosa sul gol Non si può dire niente a Donnarumma Gli ha toccata la sferata Mancini Con il tanto che bastava Per finire dentro Gol di Vargas sotto l'incrocio imparabile D'altro lato Darmian Non è il suo ruolo Barella Inguardabile Non ha azzeccato nulla dall'inizio dell'europeo Fagioli la stessa cosa Si perde la marcatura Sbaglia tutti i passaggi e tutti i stop che si possono Cristante come al solito Vaga in cerca della posizione Lanci agli amici mancinari Scamacca un tronco ragazzi Non si è mosso Non ha azzeccato uno stop Si è mangiato un gol a zero metri dalla porta Inguardabile Scamacca Reteghi non ha fatto meglio Ma io Guardate Veramente Io ho amici che mi dicono Scamacca è forte Scamacca ragazzi È stato un tronco Firmo in mezzo al campo Inguardabile Un guardabile Una partita di merda Da parte di Scamacca Cioè mi penso Quale il peggiore in campo Chiesa si Il fenomeno Quello tecnico I dribbling Grande Grande chiesa cosa Ragazzi Ha fatto un tiro in porta Che era una caccola Tutto il resto La partita dribbling Che non sono serviti a un cazzo ragazzi A un cazzo Cioè non ha fatto niente Il Sharowi ha provato a fare qualcosa Poi si è spinto Ha fatto due discese Dopodiché È scomparso dal campo Zaccagni è entrato Quando ormai La partita Era persa Era persa Perché Quando decidi di non scendere in campo Fai passaggi inutili Sbagli quello che puoi sbagliare Sei svogliato Scamacca tutta la partita Ah Che palle Cioè Ragazzi ma di che parliamo Scamacca È meglio che fa il trapper Con tutti quei datuaggi che ha Ma il calciatore Non è il suo sport Cioè Il calciatore è il suo sport Il calciatore non è il suo lavoro Perché ragazzi Non ha stoppato un pallone Il fenomeno dell'Atalanta Che spacca le po' Cosa spacca ragazzi Non ha fatto un tiro in porta Non ha azzeccato uno stop Non ha azzeccato un passaggio Non ha fatto niente ragazzi Un tronco fermo In mezzo al campo Cioè ragazzi Gli hanno Gli hanno mangiato in testa I dimensioni della Svizzera Che poi non stiamo parlando di una nazionale In Blassona Erano 31 anni Abbiamo fatto la storia in negativo Era dal 1993 Che non vinceva la Svizzera Cioè noi venivamo dal pareggio Che ci ha buttato fuori dai mondiali Un'altra figura di merda Due mondiali consecutivi Ci hanno buttato fuori Per l'errore Dal dischetto di Giorginio Ed era un pareggio Poi noi venivamo dal 3 a 0 Con la doppietta di Rocadelli Il gol di Immobile A questo punto Mi viene anche spontaneo Convochiamo Immobile A questo punto Perché Scamacca ragazzi Non è stato capace Di fare niente Non è stato decisivo Per niente Chiesa doveva essere decisivo Non ha fatto niente Barrella doveva essere decisivo Non ha fatto niente Donnarumma doveva essere decisivo E lo è stato ragazzi Ma il portiere non può Mettersi anche a segnare A fare dribbling Cioè Deve parare E deve sgridare gli avversari E il capitano Deve caricare la squadra Necessi 11 giocatori Sono forse in due A provarci Come andiamo avanti ragazzi Cioè come andiamo avanti Un allenatore che non capisce Che Di Lorenzo Non può giocare titolare Ma non perché Di Lorenzo Improvvisamente Si è diventato scarso Ma Viene da 4-5 Viene da una stagione negativa Come fai anche a convocarlo Cioè E' proprio Fuori da ogni logica Continuare a insistere Ti sei reso conto Che non ce la fa Non può giocare Fai giocare Bellanova No Continuiamo a insistere Ha giocato una merda Ulteriormente Cioè non so cosa stia aspettando Adesso ragazzi 6 settembre Francia Italia National League Due mesi Due mesi per risettare Per Togliere tutti da mezzo Deve Convocare quelli Che si salvano Non può Continuare a insistere Con la stessa affermazione E non può continuare Insistere Con questa mentalità Una mentalità Da perdenti Perché questi siamo Dei perdenti Una mentalità Di perdenti Che pensano a farsi Le vacanze E non a donare Questa nazionale Perché non puoi portare Questa maglia azzurra Il tricolore sul petto E giocare una merda Ragazzi Perché hanno giocato Una merda Non sono scesi in campo Non azzeccavano un passaggio Non azzeccavano uno stop Hanno fatto Un tiro Una caccola in porta E poi Le solite sparate Le stelle Da 30 metri Non azzeccano la porta Da 15 Vogliono Fare I golli europei Da 30 metri Non azzeccano la porta Da 15 metri Provano Le sventole Da 30 35 metri Non riusciamo Nemmeno a tirare in porta Cioè Ma di cosa parliamo Ragazzi Cioè veramente A momenti la Svizzera Si segnava da sola A momenti la Svizzera Si segnava da sola Perché non è una Nazionale Che improvvisamente Sono dei fenomeni Cioè È la Francia È il Portogallo È Non so La Spagna Cioè Veramente Mi aspettavo Comunque La sconfitta Da parte di una Big La sconfitta Con la Svizzera Meritatamente Per carità Perché hanno Giocato bene A certo Ci hanno anche Cominciato a prendere Per il culo Con un palleggio Che sembrava il Barcellona Dei tempi loro E tu Passivo Passivo Completamente Cioè Non sei riuscito A fare niente Cioè Non c'è proprio Mancata grinta C'è proprio Delle pappe molli C'è proprio Veramente Svogliati In mezzo al campo C'è uno schifo Veramente Da vomitare Questa nazionale Cioè Mi sono veramente Invergognato Di vedere la partita E si meritano Tutte le critiche Tutti gli insulti Cioè Io sono Veramente L'ultimo Sono sempre Dalla parte Dei ragazzi Ma in questo caso Ragazzi Veramente Una vergogna Una vergogna Cioè Veramente Tutti i giornali Hanno detto Di andare a zappare Ma probabilmente Un insulto Alle persone Che zappano Cioè Non andare Veramente A fare i lavori Forzati Altro che Zappare Cioè Veramente Uno schifo Cioè Non puoi Presentarti Da presentare La nazione In questa maniera Perché Veramente Il rispetto Sono i confronti Che si sono fatti Per i tifosi Si sono fatti Tutti quei chilometri Per seguire la nazione In Germania E per tutti Quelli che sono a casa Cioè Veramente Uno schifo Io ragazzi Mi scuso Per tutto questo Ma Sono veramente Incazzato nero Perché Non ce lo meritiamo Non ce lo meritiamo E Non ci meritiamo Questa nazionale Dopo Quattro mondiali vinti Non ci meritiamo Uno scamacca Uno chiesa Perché sono un insulto Alla nazionale italiana Veramente Uno schifo Si Ovviamente Nel 2020 21 Siamo saliti tutti Sul carro Abbiamo vinto L'europeo Ma dopo quella Ragazzi Sono passati anni Cioè Non puoi uscire In questa maniera Perché La Svizzera Ragazzi Giocato bene Ma Quarti di finale Massimo sei di finale Escono Perché Sono nazionali Che basta che giochino E noi non abbiamo Giocato E li buttano fuori Vi dà iscrivetevi al canale Lasciate un mi piace Se questo video vi è piaciuto Attivate la campanella Ci vediamo al prossimo video E Povera Italia Salvatici Salvatici Grazie a tutti Grazie a tutti